bentornati a detto fatto io sono valentina e lei è giorgia allora giorgia oggi proviamo a fare il costume alla barbie e anche la sdraio la sedia sdraio così quando va in piscina sta comoda vogliamo provare si ok cominciamo allora innanzitutto ci serve un palloncino di qualsiasi colore voi vogliate tu di che colore lo vuoi fare giallo ok allora prendiamo il giallo e io lo faccio rosso allora adesso dobbiamo tagliare il palloncino in questo modo lo faccio io e poi lo fai tu ok ok questo pezzo così lo ripieghiamo e tagliamo il forellino del per le gambe della barbie qua ok prova tu e abbiamo fatto il pezzo di sotto adesso passiamo a quello di sopra adesso dobbiamo tagliare questo pezzetto qui del palloncino per fare il laccetto del costume adesso vestiamo la barbie mettiamo il costumino alla barbie adesso con questo pezzetto passa l'uno il pezzo dentro l'altro tiralo dietro alla testa della barbie questo è il costume della nostra barbie adesso prepariamo la sedia sdraio prendiamo un cartoncino e facciamo passare del fil di ferro all'interno e lo pieghiamo in questo modo questo è il risultato e abbiamo passato il fil di ferro per renderla più rigida adesso passiamo a creare i piedini della nostra sedia Musica Adesso, Giorgia, facciamo l'asciugamano per l'asbraio. Sì. Questa è la nostra barbie al mare. Vi aspettiamo la prossima puntata di detto? Fatta. Ciao ciao da me e... Giorgia. Ciao.